Ben trovati in un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Il satellite ci mostra come su tutta l'Italia abbiamo un cambio di scenario atmosferico, un'inversione di rotta dopo il grande caldo africano che per molti giorni è interessato l'Italia, adesso aria più fresca dal nord Europa, dalla Scandinavia, sta interessando l'Italia ma anche i paesi limitrofi. Nelle prossime ore un fronte perturbato inizierà ad abbandonare il nord Italia ma sarà recidivo sulle regioni centrali con rovesci e temporali tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e zone interne di Lazio. Osserviamo proprio quello che succederà nelle prossime ore perché temporali anche forti sono attesi sull'appennino tosco-emiliano in movimento verso le Marche e l'Umbria, localmente qui fenomeni intensi. E poi nel corso di sabato nuovo impulso perturbato in quota con rovesci tra questa notte e domani mattina in alcune zone del nord, in marcia tra tarda mattinata e pomeriggio sulle regioni centrali, qualche temporale localmente intenso di nuovo sul centro Italia. Per il sud stabilità e bel tempo ma piovaschi giungeranno qui domani sera tra Campania, Mulise, Medio Alta Puglia e Basilicata. Seguite gli aggiornamenti di questa fase molto variabile scaricando l'app di Trevi Meteo.